Unità nella diversità. È il motto nazionale della Repubblica d'Indonesia, un paese dalle straordinarie bellezze naturali, custode di tesori come il Tempio buddista di Borobudur, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, in cui lo Stato riconosce ufficialmente sei comunità religiose, musulmana, cattolica, protestante, buddista, induista e confuciana. Nella nazione del sud-est asiatico, con oltre 250 milioni di abitanti, vive la comunità musulmana più numerosa al mondo. In un tempo in cui troppo spesso ci si confronta con i frutti nefasti dello scontro e dell'intolleranza, che non di rado usano la religione per accendere gli animi, l'Indonesia rappresenta un esempio a cui rivolgere lo sguardo. Non solo la libertà di religione è prevista dalla Costituzione, ma la convivenza si apprende tra i banchi di scuola e si coltiva a tutti i livelli della società. Ci sono 37 diocesi ed arcidiocesi in Indonesia. La percentuale rispetto alla popolazione si aggira intorno al 5%. Pertanto contiamo 7 milioni di cattolici nel paese. In generale ci sentiamo veramente felici, come indonesiani e come cattolici, perché la Chiesa Cattolica ha svolto un ruolo importante nella storia dell'Indonesia, soprattutto attraverso l'educazione e la sanità. Anche se la parte occidentale di Java è una provincia musulmana, abbiamo rapporti molto buoni con i musulmani. Anche se risaliamo nella storia, noteremo che non ci sono seri problemi con i musulmani. Bandung, che è la capitale della provincia, è stata dichiarata la città più pacifica dell'Indonesia. E ora lo stesso sindaco ha cercato di far nuovamente proclamare Bandung città della pace. Certamente persistono le difficoltà per edificare le chiese. Ad esempio nella nostra diocesi ci sono almeno ancora tre chiese che stiamo cercando di costruire, richiedendo il permesso del governo. I permessi dei proprietari vicini al terreno della Chiesa non ci sono ancora, per questo cerchiamo di ottenere la concessione governativa. Sono un vice parroco ma anche lavoro nell'università, anche un lavoro nella scuola, un asilo e scuola elementare che nella scuola anche nell'università ci sono tanti giovani musulmani e quindi viviamo nella parrochia, nell'università anche nella scuola che questo un modo di stare insieme, di vivere insieme, non differentiamo la fede ma che viviamo noi siamo tutti indonesiani. L'identità indonesiana che nella vita diciamo nella diversità, questo molto importante che viviamo ogni giorno. Il dialogo religioso in Indonesia è iniziato nel 1990, animato da Muktiali. Poi la curiosità si è fatta strada tra gli intellettuali del mondo islamico e il dialogo si è fatto più intenso. Oggi non solo coinvolge il mondo accademico ma arriva tra la gente comune, un confronto che viene facilitato anche da Nadal Toulama, attraverso la cultura nelle scuole musulmane, Pesantren per mantenere sempre vive le buone relazioni tra le diverse religioni del paese. Un vero laboratorio di convivenza dunque dove certo non mancano le difficoltà o alcuni sparuti gruppi che cercano di diffondere l'ombra dell'estremismo nel paese. Quello che colpisce è la volontà radicata di essere uno anche nelle differenze, di non centellinare le iniziative di reciproca conoscenza, di puntare su un'educazione soprattutto umana delle giovani generazioni. Ragazzi che studiano insieme scherzano con un sorriso coinvolgente e aperto. Essere tolleranti, dialogare con le altre religioni è molto importante, non soltanto le religioni ma ogni forma di fede è molto rilevante. In questa università ci sono tanti dibattiti multiculturali come i momenti del camping e del dialogo. Il nostro fondatore sottolineava l'importanza dei valori di integrità, umanità, tolleranza e anche rispetto di sé e degli altri. Sono molto importanti perché credo che sottolineando questi valori si possa preparare le giovani generazioni ad essere giovani generazioni che rispettano il multiculturalismo e anche il pluralismo. E anche se siamo un'università cattolica non vogliamo che gli altri si inconvertano ma vorremmo incoraggiare sempre tutti gli studenti a rispettare i principali valori della vita, il rispetto reciproco, così come noi stiamo rispettando gli aspetti salienti della dimensione multiculturale e plurale.